Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo brevissimo video tutorial Oggi vi spiego come mettere l'equalizzatore sul TeamSpeak 3 Sul vostro microfono Che giochi di parole mamma mia Ok ragazzi come prima cosa dovete scaricarvi Clownfish per TeamSpeak 3 È un plugin per TeamSpeak 3 Dopo averlo scaricato dovete pure scaricare un altro plugin VST Di un equilizzatore qualsiasi ragazzi Poi dovete recarvi sul TeamSpeak 3 Plugins Clownfish Voice Changer Si chiama così Andare sulla sezione VSTFX Open VST Folder E qui dentro mettere il plugin dell'equilizzatore In questo caso io uso il Red 2 EQ Perché è l'unico che funziona ragazzi quindi vi consiglio di cercarlo e scaricarlo Poi ragazzi inserite il vostro plugin E andate su ConfigFX Ecco e vi aprirà il vostro plugin, il vostro equilizzatore Dopo aver fatto ciò potete fare ecco quello che volete Non so adesso io ti può mettere più basso E che è più basso la mia voce, un po' più alti Eppure aumenterei un altro gain di qualcosa qua perché non so che cos'è Ok dopo aver fatto questo ragazzi come già potete sentire c'è un'altra qualità Sul TeamSpeak Avete un'altra qualità sul TeamSpeak E niente ragazzi Ovviamente sentirete la vostra voce quindi dovete andare su Plugins Clownfish E cliccare su Hear Voice Significa disattivare che vi sentite voi stessi ecco E non dimenticare ragazzi di cliccare su My Voice perché sennò avrete un'altra voce Una voce diversa ecco E niente Questo era il video ragazzi Spero questo video vi sia piaciuto Mettete un bellissimo like Venitemi a trovarmi sul mio TeamSpeak L'ip è ts.biblioscura.it Bella a tutti